Riteniamo che Uber sia fuori legge e di conseguenza coloro i quali stanno guidando le macchine a nome di Uber, quindi parlo degli autisti, siano praticamente in concorrenza sleale nei riguardi dei tassisti. E quindi l'esposto si basa soprattutto sulle varie leggi e articoli di legge che abbiamo enumerato prima quando abbiamo fatto la conferenza. Per fare il tassista ci vogliono dei titoli che sono enumerandoli oltre alla patente che chiaramente gli autisti di Uber hanno, ma poi ci vuole un esame in camera di commercio per essere abilitato a guidare il taxi e l'iscrizione alla stessa camera di commercio e poi i nostri turni, i turni di lavoro e le ore di lavoro sono gestite dal comune, dall'ufficio taxi che è preposto a questo. Quindi gli autisti Uber non hanno nessuno di questi titoli e di conseguenza sono illegali.